Ciao a tutti, sono Davide Moretto e in questo Outcast Sala Giochi vi parlerò di Figment, titolo dello studio danese Bedtime Digital Games. Innanzitutto diciamo che Figment è già disponibile per diverse piattaforme da tempo, per PC, per Switch e per piattaforme mobili iOS e l'occasione è l'uscita qualche giorno fa su piattaforma Android. Figment è un'avventura con rappresentazione grafica isometrica dove andiamo a controllare un'avventura puzzle dove andiamo a controllare Dusty, un personaggio che se ne stava tutto tranquillo tranquillo a sosseggiare un drink nella sua verandina in questo mondo molto fantasioso che adesso andiamo a scoprire, ma viene svegliato il suo torpore da un demone perché gli ruba un libro dei ricordi a cui lui tiene tantissimo. Qua inizia appunto l'avventura di Dusty che fa di tutto per recuperare questo libro e tramite un uccellino che lo segue costantemente andrà in giro per i vari livelli della mappa a inseguire il demone e a sconfiggere vari nemici, boss eccetera. Il gioco di per sé è come dicevo un action puzzle perché ci sono sia i momenti in cui il nostro Dusty deve correre, combattere, evitare i nemici, evitare i proiettili, ma soprattutto dove deve risolvere dei puzzle che consistono in per esempio riuscire ad attivare un determinato meccanismo usando una batteria che viene trovata se si risolve un altro enigma. La parte puzzle è molto convincente, molto carina e sinceramente non ha ostacoli particolari di difficoltà o cose. Mentre la parte diciamo più action forse è quella un po' meno un po' meno riuscita ma principalmente perché primo il gioco non si basa, non basa il suo fulcro su questo punto e secondo effettivamente con i comandi touch per cui per quanto siano abbastanza ben fatti perché comunque viene sempre gestito tutto tramite il solito joypad virtuale quindi pollice sinistro per il movimento e pollice destro per le variazioni con i pulsanti a schermo virtuali. È ovvio che in alcuni casi ci sia un problema di risposta, di precisione che non non pregiudica assolutamente l'esperienza finale però sicuramente non è proprio il massimo. Poi ci sono dei momenti in cui bisogna combattere i boss e questa parte qua è ancora ben riuscita perché pur essendo una parte dedicata più all'action ci sono dei meccanismi dove siamo per forza obbligati a capire qual è il punto debole del boss, a come risolvere, a come sconfiggerlo e quindi di volta in volta in maniera sempre diversa sarà necessario scogitare, insomma trovare l'escamotage per sconfiggere il boss e poter andare avanti. Quello che colpisce sicuramente di figment è l'impianto grafico e di design perché è veramente delizioso con una grafica tutta disegnata a mano immagino, veramente surreale. Questo perché tutto il gioco viene ambientato nella mente di una persona. In realtà tutta l'avventura è un viaggio introspettivo nella mente di questa persona e non posso dire altro perché sennò si spoilererei parte della trama del gioco, che non è che sia tutto sto che, però comunque interessante. E appunto ogni area della mappa è un'area del cervello e vengono veramente descritte e disegnate queste aree con una dolcezza e un'inventiva veramente notevoli perché tutto sembra un'allegoria, le varie parti della memoria, della rabbia. Ogni zona ha delle casette che fanno riferimento a delle parti di un cervello vero e proprio, ma è tutto disegnato in una maniera talmente allegorica e surreale che è veramente un piacere da vedere e anche da ascoltare perché anche la colonna sonora è piacevolissima, azzeccata e non è mai fuori luogo. Per certi versi mi ha ricordato i primi lavori di Supergiant Games per la qualità di come sono fatte le cose, per l'attenzione e per la dolcezza di certi argomenti trattati. Il gioco è, a mio parere, veramente piacevolissimo e mi stupisce, e qua mi cospargo il capo di cenere di non averlo incrociato in passato su altre piattaforme perché è veramente un titolo bello, ma proprio bello bello. Dal Play Store di Google è possibile scaricare il gioco gratuitamente provando i primi due livelli e poi se si vuole continuare l'avventura è necessario acquistarlo. Secondo me vale assolutamente la pena perché è veramente un titolo molto valido. È ovvio che giocato su un tablet ha molto più senso di esistere che non su un cellulare dove per quanto lo schermo sia grosso, per ovvi motivi tutta la qualità grafica e dettagli si perdono nella piccolezza dello schermo. Comunque gioco notevole che mi fa conoscere questo team di sviluppo danese assolutamente assolutamente talentuoso e spero piaccia anche a voi perché merita davvero. Un'ultima nota, il gioco ha il sottotitolo in italiano ma è parlato in inglese che è perfetto perché comunque anche la parte parlata è veramente ben costruita e le voci sono assolutamente adeguate al tipo di gioco e alla qualità media del titolo. È un gioco che in certi punti fa anche riflettere e un piccolo tono di malinconia lo fa venire. Comunque bel titolo consigliato almeno dal mio punto di vista e vi ringrazio per l'ascolto, un salutone, ciao alla prossima.